Episodio 7 parte 2. Acqua alla gola. Sono preoccupata per Gabe. La morte di Hargrove l'ha colpito molto più di quanto mi aspettassi. Dopotutto non la vedeva da 12 anni. Non oso pensare a cosa potrebbe fare se non riusciamo a salvare Blake. Non lo vedevo così ossessionato dall'epoca del complotto Siphon Filter. A volte, lavorando con Gabe, mi sento con l'acqua alla gola. Non so perché, ma tanti anni che lavoriamo insieme siamo stati vicini. Mi ha salvato la vita, ma non è mai stato ossessionato da me. Non so che pensare. So solo che devo trovare Blake. Non posso permettere che venga uccisa. Gabe non se lo perdonerebbe mai. Liang Xing. Quindi questa volta siamo nei panni di Liang Xing. L'idrolabe online. Quasi, signore. Ancora pochi minuti. Bene. Aspettate il mio senso. Eh, quindi Gabe e Hargrove sono stati insieme. Però con Leon loro in realtà non sono mai stati insieme. Perché Logan dovrebbe rischiare tutto per quella bambina? Perché la bimba sa qualcosa. In realtà lei non sa niente, giusto? Sì, ma voi non lo sa. E chi è quell'altra? La donna. Beh, se non è un'altra molto più bella di lui. Vabbè, giustamente Liang Xing è molto più bella di lui. Perfetto. E li abbiamo uccisi tutti. Allora, lei ha la mitraglietta e il fucile di precisione. Allora, qui non so se c'è qualcuno adesso che spunti all'improvviso. Ecco. Esattamente. Ok. Signora, ecco. Allora, ecco. mi sembra abbastanza sviluppata però per essere di dieci anni c'è non sembrava una bambina o no stanno stanno riempiendo d'acqua e madonna mia diciamo hanno tolto tutto se vabbè manco il tempo mi hanno disintegrato no 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 peccato che quest'arma abbia ok qui prendiamo giubbottoni proiettina e qui salviamo la ragazzina cerca di star ferma non vorrei tagliarti stammi lontana e torna qui merda ho trovato blake ma è scappata la recupero io tu segui singolarity ricevuto chiudo o chiudete la e vedi sono tutti la sopra ma è fortuna che questa è una pistola che one shotta quasi che è molto forte sta pistola ed è estremamente precisa madonna mia è una bestia è OP oh no ah ecco ci sono le granate MP ok 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 E da qua non posso possare Aspetta forse devo spaccare Prima questi e ci sarà Un'altra scena probabilmente E infatti Allora vediamo se scendono Perché se arrivano da qua Sì Scusa ma perché non li piglia E lì c'è quello con la corazza Ok E infatti vedi ora si è attivata la porta Perché E si Sono proprio dietro di lui Ora vediamo dove mi porta Ok Grazie a tutti